buongiorno sure e buongiorno sure benvenuti in questo nuovo video oggi video shopping finalmente ho fatto un po di shopping make up poso finalmente riporto una novità essence ma prima di vedere quali sono i prodotti nuovi di essenz iscrivetevi al mio canale e seguitemi su instagram attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video e lasciatemi un like ora possiamo iniziare allora ho qui la borsa come primo prodotto ho preso io ho preso tutto quello che c'era di novità e si chiama strong pink e faccio vedere a voi vedete è praticamente questo qui è il sapone per le sopracciglia allora io sono andata alle se lunga e non potevo aprire i prodotti perché li hanno messi nella farmacia infatti avevo paura che di non poterli controllare vedete e trasparente e questo è lo scovolino per fare le ciglia super naturali il prodotto è duro e duro non ha nessun odore è carina carina questa scatoletta carina sia per la primavera cosa c'è scritto pink e quindi è molto simpatico infatti poi la scatoletta riprende appunto una saponetta poi allora la saponetta vediamo anche il sapone l'ho pagato 4 euro e 19 perché ovviamente non c'erano sconti poi ho preso questo kit per i capelli e un cosino qui per fare la coda e due mollettini a prendere la la il coltello per poterla aprire sono proprio carine guardate che belle proviamo e subito una vediamo la voglio mettere che si vede si vede carina e poi questo qui per fare la coda dai un bel colore mi piace è questo qui l'ho pagato 4 euro gli ho pagati 4 euro e 19 poi ho preso questo mascara power flow c'era scritto che faceva delle belle ciglia guardate che carino adesso non credo che questo qui mi ricorda qualcosa è però era nelle novità guardate che bello tutto il corsetto e poi i dettagli sono in silicone e sono in rilievo bellissimo proprio bello vediamo come lo scovolino scovolino e così secondo me questo scovolino rende lo devo provare domani magari lo metto subito all'opera e il maschile il maschile il maschile pagato 289 e dice che incurva e aumenta e da volume alle ciglia poi oddio si è aperto come prodotto novità c'è questo qui not sorry ed è un glitter lipstick io neanche gli aperti ripeto l'ho preso quello che c'era guardate che bello che a tutti i glitter è veramente stupendo che quasi mi dispiace il colore wow sì magari c'erano altri colori però c'erano quei tipi mi continuano a guardare io preso ho preso così a caso no stavo sentendo il profumo no e questo qua il rossetto l'ho pagato 489 però tanto per essere pur per essere un rossetto essence e tanto 4 49 non costavano così rossette di esso è vero che sono novità poi cosa abbiamo preso guardate che bello questo è uno spray per il corpo e niente body highlighter spray guardate bellissimo il colore vediamo com'è e esce anche rosa un buonissimo profumo è un buonissimo profumo veramente buono sembra fiori è vorrei sbagliare e lascia una leggera lumini luminosità e questo qui e lo spray corpo l'ho pagato 4 euro e 19 poi sempre nelle novità c'era questo blush cotto che si chiama wonderful blush illuminante e lo 01 c'era solo questo non potevo scegliere guardate il colore molto bello è un pescato no non ha nessun odore guardate il colore bello mi piace ed è luminoso vedete poi il blush l'ho pagato 489 quindi 5 euro poi ho preso guardate oddio si muove che bello questo colore è uno smalto l'ho preso solo perché è fuzia e io un'estate anche per i piedi lo uso tantissimo è un colore il colore che uso di più in assoluto ed è stupendo guardate che colore bellissimo e mi piace tantissimo anche oddio stava cadendo anche il pack guardate che bello 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 lo smalto l'ho pagato 2 euro 89 poi c'era in offerta a un euro aspettate sì c'era in offerta a un euro 29 vabbè un sacco di cose che ovviamente non c'era più niente e io ho trovato solo queste due cose qua allora questo è un primer c'è scritto per il viso dice leggermente colorato e matte e di metterlo appunto prima del fondotinta c'era numero 10 il numero 30 allora avevo paura che fosse troppo scuro il 30 ho preso il 10 tanto poi sopra comunque ci metto il fondotinta perché questo è un primer quindi soltanto sul sicuro con il numero 10 e l'ho pagato soltanto 1 euro e 29 poi vedremo com'è magari lo proviamo in qualche trucco e poi è una baby cream c'è scritto che dà una leggera copertura e waterproof quindi adatto per la palestra io ho preso numero 20 perché c'era solo questo e lo proverò vediamo vediamo com'è sono curiosa soprattutto per l'allenamento voglio vedere se resiste perché se resiste al sudore resiste anche la mascherina penso e niente queste sono aspettate che vi faccio vedere il colore eccolo quasi magari dovevo spatterlo un pochino beh per essere un 20 e scuro è e scuro guardate è bello scuretto non so se mi andrà bene adesso lo tengo qua e vedo se si ossida e questo qui vediamo lo metto ve lo metto sulle palme della mano perché lì sono tutta pasticciata e dai esci è durissimo è durissimo da tirarlo fuori il colore è questo qui vedete si è un bell'effetto siliconico e lisciante ed effettivamente è colorato fatto bene a prendere 10 perché comunque è un bel colore sembra anche luminoso anche se lì dice matt ah forse sto pasticciando io che avevo qua il blush magari può essere però boh lo vedo un po luminoso vabbè li proveremo li proveremo insieme e niente questi erano tutti i miei prodotti novità della essence spero che vi sia piaciuto il video se avete qualcosa o avete intenzione di comprarlo scrivete uno sotto nei commenti ditemi qual è il vostro pezzo che vi ha incuriosito di più e noi ci vediamo domani con un nuovo video sempre alle ore 11 ma prima di andare via vi mando un grosso bacio e prima di andare via ehi raga facciamo festa siiii ciao ciao